Salve a tutti, sono qui per spiegarvi perché noi ragazzi diventiamo truzzi. Io sono Susi, una ragazza truzza appunto, e sono diventata truzza circa ieri perché? Perché, beh, intanto io ascolto musica tunz tunz tunz, para para tunz tunz tunz, quella musica l'ha, che per alcuni si chiama house, però non per tutti è musica. Ma tre lasciamo, sono truzza perché a parte questo, io porto vestiti di marca ovviamente, perché se no non sarei truzza, infatti notare Dolce Gabbara. E poi, beh, sono truzza perché, beh, io ho la collana di perle, che, cioè, se non l'avessi, cioè, non sarei truzza. E poi, sono truzza perché, beh, sono truzza perché, beh, io alle persone che lovo, beh, io parlo così, eh, ciao amole, come stai? Io tutto bene, glattie. Ti dovo tantissimo, ma tanto, tanto. Beh, è un segno d'affetto, cioè, io sono truzza, quindi parlo così. Poi, beh, io sono truzza perché io cerco di imitare le emo girls, e quindi, beh, vedete, ho ciuffo e cerco di truccarmi come loro. Infatti, cioè, ho provato ad allungare la matita, ma, insomma, è questo l'effetto. E, niente, mi dicono che sono poser, ma io non capisco perché, perché le foto così se le fanno tutti, anche quelle dall'alto, così, cioè, non capisco. Vabbè, comunque, ragazzi, pigold nel cuore e house forever, ma forever.